Oggi si parla di Energy Performance Contract, si parla di applicazione del sistema degli Energy Performance Contract soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, quindi come questo strumento che ha una natura giuridica ma anche finanziaria possa essere poi applicato e possa essere utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per effettuare operazioni importanti di riqualificazione energetica. Si tratta di un tema molto attuale anche per le sue connotazioni giuridiche e per il percorso che è in atto in questo momento di chiarificazione di quella che è la sua natura. Quindi oggi si parlerà della natura giuridica, dei profili economici e finanziari e dell'impatto degli Energy Performance Contract.